Ehi, ma qui non si vede niente, queste astronavi ribelle, ma come le fanno queste astronavi, non si vede niente, oh, perché non si apre sta porta dell'astronave, che miseria mi tocca usare la spada laser, si capisce qui come si fa ad aprire, oh, 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 allora, dove sono i ribelli, dove sono, se li piglio io i ribelli li faccio a fettine, e un colpo a destra, un colpo a sinistra, oh, sono fortissimo, oh, 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 ma chi è che fa tutto questo casino qua? E tu chi sei? Chi sei? Ma sei bravo, quello sei, un jedi? Un jedi? Ma cosa dice questo? Secondo me è tutto patto, questo qua, te lo dico io, ma che matto, tu non capisci? Qua ci sono i jedi, dove sono i jedi? A morte, i jedi, a morte, a morte! Sì, sì, ma stai calmo, perché secondo me tu sei tutto, sei tutto un pochino spalinato, fai, te lo dico io, senti, fatti vedere come uno bravo, fai, poi cos'è questa maschera qua che hai, dai, toglitela, poco a fuori, sei morto? Guarda che io, con la mia spada laser, ti riducco le polpette, sai? Eh, hai capito? Oh, ma senti, mi devi fare tanto il cradazzo, aiutami che dobbiamo chiudere il fibario, e non capisco chi è che l'ha aperto, fermo, fermo, non puoi chiudere il fibario, hai capito? Perché adesso sono arrivato qui io, è arrivato l'impero, l'impero galattico, hai capito? Sì, sì, ho capito, ho capito che sei tutto un pochino, ho capito, senti, io devo chiudere il fibario adesso, perché è tardi e i bambini vanno a nanna a quest'ora, ma cosa dici i bambini? Non hai capito? Il buratto scuro, io non ho capito. Lo sai chi sono io? Hai capito? Sai chi sono io? Lo sai? Eh, no, veramente no, non ho capito chi sei. Io sono Darth Burat Fener. Eh, Darth Burat Fener, esagerato, sei proprio esagerato secondo me. Invece sì, ti dico, sono Darth Burat Fener, vuoi assaggiare la mia spada laser? Guarda. Oh, ce l'hai avuto abbastanza? Sì, ce l'hai avuto abbastanza. Senti, adesso io devo chiudere, non ho tempo per fare cose strane, quindi adesso, mi dispiace, ma, oh, tiriamo un sipario e adesso tiriamo anche l'altro. No, aspetta, 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 ma che sipario, cosa vuoi tirare il sipario? Oh, 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 sipario, deve stare lì. Oh, guarda che ti infizzo, sai, ti infizzo con la mia spada laser. Oh, qui non va bene, sono io il protagonista qui, capito? Via, 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 via. Oh, io sono il protagonista, faccio io la regola qua. Adesso, oh, sono arrivato io, è arrivato l'impero galattico. Ho l'incristinato l'ordine e la galassia. Finghi, Darth Koso. Darth Vener. Darth Koso, sì, veder, quello che è. Ma cosa stai dicendo, vedi, della galassia? Non vedi che fiamo solo dei burattini? E per piacere, adesso io ho bisogno di chiudere il sipario, perché io devo andare a casa, perché ho anche una famiglia, sai? Hai una famiglia? Ma me cosa me ne frega della famiglia? Io sono Darth Vader, devo riportare l'ordine nella galassia, hai capito, hai capito? Oh, va bene, senti, allora, cosa dici se riporti l'ordine domani mattina, eh? Io adesso chiudo il sipario e me ne vado a casa. No, cosa fai, cosa fai? Sei matto? Non vuoi chiudere il sipario? E va bene, va bene. Allora, aspetta un attimo, aiutami a chiudere la spada a nasa, nemmeno. Oh, chiudiamo il sipario e non riparliamo più. Oh, chiudere il sipario e non ripariamo più.